Si avvicina l'appuntamento con il 23esimo slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini. L'automobile club Campobasso, la Tecno Motor Racing Team e la Molise Racing stanno definendo i dettagli dello slalom. Da quest'anno le curve della Gildonese verranno attraversate non solo dai piloti del campionato italiano, ma anche dai campioni europei. Da questa edizione lo slalom città di Campobasso sarà valido come quinta tappa del campionato europeo. Sette le tappe Cez, due in Italia, altrettante in Repubblica Ceca e Ungheria ed una in Slovacchia. La competizione continentale 2015 si aperte il 18 aprile in Ungheria, a cui ha fatto seguito l'appuntamento slovacco del 3 maggio a Presov. La settimana prossima sarà la volta del doppio turno in Repubblica Ceca. Le manifestazioni italiane sono in coda alla Championship 2015, Campobasso il 24 maggio e dopo la tappa ungherese del 5 luglio, Este il 12 luglio. In Molise sono attesi i piloti da ogni parte d'Europa. Albania, Montenegro e Polonia hanno già aderito. Richieste sono arrivate anche dall'Austria per un evento sportivo che servirà anche come promozione del territorio. La gara molisana sarà anche tappa del campionato italiano e di Coppa Slalom e Trofeo Slalom per l'assegnazione della Coppa Italia di Quarta Zona. Lo Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini è il terzo appuntamento della manifestazione tricolore. Nelle prime due uscite Fabio Emanuele, il driver molisano della Campobasso Corse, ha portato a casa un doppio successo. Il 23 e 24 maggio l'evento automobilistico, ma sono diverse le manifestazioni di avvicinamento alla gara. Sabato 16 maggio, in occasione della seconda edizione di motori in città, la Molise Racing alessirà il lungo corso Vittorio Emanuele a Campobasso degli stand informativi dello Slalom. Inoltre, con il progetto Arte, Ambiente e Motori verranno esposte le creazioni del Liceo Artistico Manzù di Campobasso. Gli alunni hanno ideato e creato con pneumatici da riciclo oggetti di design, che verranno presentati in occasione di motori in città e verranno disposti lungo il percorso nel giorno della competizione. Confermato il secondo concorso fotografico Emozioni e Motori, gli scatti saranno esposti nell'atrio del comune di Campobasso dal 10 al 20 giugno e la lotteria associata alla corsa automobilistica con premi a tema.